Tra i candidati all'Assemblea regionale siciliana, nella lista di Forza Italia c'è l'ex consigliere comunale di Sciacca, Vittorio Di Natale, che oggi al nostro telegiornale spiega le ragioni della sua candidatura alle elezioni del prossimo 5 novembre. Di Natale parla di tradimento in ordine alla scelta compiuta da Alternativa Popolare di andare con la coalizione di centro-sinistra che sostiene il candidato alla presidenza, Fabrizio Micari. Il motivo principale che mi ha spinto a questa candidatura è prima di tutto la coerenza al voto che abbiamo avuto pochi mesi fa. A tutta la cittadinanza abbiamo chiesto di assicurare il voto per la cura del territorio, quindi in primis le terme, l'ospedale e tutto il territorio di Sciacca. Con i nostri ex ormai amici di Alternativa Popolare avevamo fatto una bella squadra che si è prestata al voto, però fortunatamente, e lo devo sottolineare, il popolo è stato lungimirante nel senso che ha compreso le vere motivazioni e oggi il tradimento di questi nostri amici che chiedevano il voto nel centro-destra. Oggi ci troviamo completamente soli perché abbiamo fatto cinque anni in Consiglio Comunale di fare delle battaglie contro la regione completamente sorda. È stato gridato a più voci, è stato gridato moltissime volte le dimenticanze, la poca professionalità che il governo Crocetta ha dato al luogo e a tutta la Sicilia. Non ci dobbiamo dimenticare, come dicevo prima, la battaglia delle terme. Oggi chiudere un accordo elettorale con questi signori è stata la cosa più brutta che noi di Forza Italia ci potevamo aspettare. Io non so con che forza avranno le tematiche di spiegare alla popolazione, di spiegare a tutto il territorio le motivazioni. Gli esponenti di Alternativa Popolare hanno più volte spiegato che la presenza di Salvini tra le forze che sostengono Musumeci è stata una delle cause che ha impedito al partito di Alfano di chiudere ogni accordo con la coalizione di centro-destra. Mi sembra solo una scusa, meglio stare con Salvini che con Crocetta, commenta Vittorio Di Natale. La domanda è allora meglio stare con Crocetta che è il primo, il primo in assoluto responsabile di tutto quello che noi assistiamo per non stare invece con Salvini che ha presentato poi tra l'altro una coalizione insieme con Fratelli d'Italia e che non è prioritaria in questa coalizione, coalizione che appunto vede Forza Italia in maniera fortissima all'interno che conduce tutta la coalizione. Questa è soltanto una scusa ed è un piccolo pretesto per spiegare quello che non si può spiegare in realtà. Alla luce del quadro delle alleanze ritengo di essere io l'unico candidato di centro-destra a Sciacca, conclude Di Natale. Non si può essere centro-destra a Consiglio Comunale, centro-sinistra alla Regione. L'elettorato che ci ascolta ha il diritto di comprendere e di sapere chi sta con chi e deve sapere chiaro quello che aspetta al voto del 5 novembre. Quindi continuare con delle discussioni che possono essere di saltafosso o degli inganni elettorali non ha senso. Io chiedo soltanto la coerenza politica perché il primo fallimento personale è soltanto quello di non avere una coerenza con le proprie idee.